Eeeh, saluto a tutti e ben tornati in questo, forse il quinto episodio, se non mi sbaglio Oddio, sto perdendo il conteggio Finalmente avevamo ucciso quel coso, io, cioè, voi l'avete visto tutto nel video scorso, ma, eeeh Penso di averlo fatto 6 o 7 volte, perchè continuava a finire i colpi, non perchè morivo E quindi, finalmente, ce l'ho fatta, si che poi sono rimasto con 6 colpi dentro alla pistola Spero di trovarne alcuni Allora, già la gunpowder, che non è male Eeeh, basta, solo quella Questo uno si può aprire, nemmeno uno Vita, sto normale E si può andare avanti Aiuto, cosa è successo Ok, sta succedendo qualcosa Ma il gioco non me lo calcola nemmeno Ok Non so cosa stia succedendo Vabbè, se mi da un altro scatto, riavvio il gioco Aspettate, wait Ok Uh Altro spazio aggiuntivo Qui non avevo altro polvere da sparo, vero? Ne Ok Andiamo avanti Ok, mi ha dato un altro scatto, riavvio il gioco O vediamo se ci da ancora quei problemi E ora qua c'ho il gatto che mi continua a montare sulla scrivania No, aspetta, aspetta gatta Aspetta Perché continuiamo a fare questi scatti adesso? Che cosa succede? Dai, gatto Che palle Che non posso manco mettermi Ok Ok Avere un gatto così ti va venire voglia di ammazzarlo Ok, qui ci vuole una carta Oh no Oh no, con quali colpi lo uccido Lei? Qualcane potrebbe mangiare la mia gatta Così evita di rompermi coglioni Mi scusi Grazie Per l'aiuto Strano tu sei ancora vivo FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace Informazione confidenziale Dove va? Per il tuo bene Smetti di fare domande e vattene da qui Signora, un po' di munizioni Ehi Non abbiamo finito Io guardo un po' qua A giro Se trovassi qualche immunizza Ma non penso di essere così fortunato E infatti non sono così fortunato Non so dove sono Ok, ci sono diverse porte qua No figlioli Se ci sono altri cani Io qua non posso combattere Non mi tocca fare così Ci sono ma Quelli in gabbia Riferto Autoptico Se volete leggere Eeeh Ok, va bene così Ok, resta dentro Che se ti risveglia È un casino Ok Questa è troppo sveglia Non è che tipo Mi ascan delle munizioni Lui Non mi piace Se avevo delle munizioni Le aprivo Quelle che potevo aprire Ma non ho Sei colpi E tre Ah, li mortacci Tu Voi vi lascio aperti Pianta Che Boh Non ci fa niente Ma la posso prendere Perché c'ho questi scatti Assurdi Che succede Lui non c'era Prima Vabbè Non ci fa niente E' un poligone di tiro Colpi ci saranno Nota smaltimento Attrezzatura Chiave piegata E' inutilizzabile Usando i pulsanti Si possono ancora Aprire le portiere E' il bagaglio Messaggio da mister racco Ciao bambine Bambine Oggi voglio parlare Di una cosa Di un po' pazzo Beh Un cilino Mi ha detto Che ora è un modo Di usare Per il tiro Al bersaglio Ah Ciò significa Che sei io Eccolo lì Siamo il nostro colpo Che ci porterà Fortuna Non abbiamo Quella chiave Uno di questi due Si alza Me lo sento Meno male Allora Se uso i pulsanti Ancora aprire le cose Dice Bene Torniamo al parcheggio Abbiamo visto Quello che dovevamo Vedere Però che pulsanti Boh Lì era dove è andata Quell'altra Non so Io Ah quella è chiusa Quindi ok Dobbiamo andare Infatti Oh Nice Mappa centrale Polizia Boh Eh Devo ottenere la tessera Questa è la mia mission Tu sei Morto Sembra Dovrò andare Di là Ma voglio vedere se qui è aperto Non è aperto Bene Ora c'è solo una Bruzza Bruzza Sei Ci sarà qualcuno Che sfonderà La porta Ciao Anche adesso è brutto Oh E la Ehi Non posso crederci Un essere umano Ciao umano Sei qui da molto Abbastanza Siamo gli unici ancora vivi No No Ce ne sono altri Ah Buona notizia credo Sì A meno che non stia aiutando Irons Irons Il commissario Irons È ancora qui Chi lo sa Spero sia finito in pasto a quelli Che vorresti dire È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui Beh avrà avuto le sue ragioni Ma certo Probabilmente le sigarette Pubblicare le sue porcherie Penso che io avrei fatto lo stesso Oh no E cazzo ti spari in testa e la prendo Devo parlarne col commissario Siamo entrambi i prigionieri qui Quindi o collaboriamo E riusciamo a uscire O Merda Arriva Cosa Chi arriva Avanti Dai non fare lo stronzo Ne avrai bisogno Tirammi fuori da qui cazzo Oh Cristo santo Grazie Chi va là? Sono io Metti via Quell'affare Non so cosa sia stato È Successo in fretta Ti ho detto di andartene Non vorrei finire come bello Vero? Come faccio ad andarmene? Mi serve quella Era un informatore Aveva dati utili alle mie indagini Quindi non stava Ehi Ehi Non può continuare ad andarsene Non so neanche il suo nome Mi chiamo Leon Kennedy Trova come uscire Leon C'è poco tempo Poi parleremo Mi chiamo Ada Bene Bene Sappiate io che non ho mai giocato a Resident Evil 2 Quelli vecchi Quindi Se ci sono persone che quando voi le vedevate Ah Io faccio che cazzo Capito Oh Un attrezzino Oh Qui manca qualcosa Quadro elettrico Anche Il quadro elettrico fuori uso potrebbe Eh Come mai ho noto Il quadro elettrico delle celle Mi sono stati belli che ci sono Quei componenti per quadro elettrico Per produzione Alcuno dovrebbe trovarsi Nella sala del generatore Eh Non ho finito a leggere Perché ho sbagliato Eh Ho saputo che Nella sala del generatore C'erano solo di quei componenti Il tizio venuto a riparare La lampada del Torre dell'orologio Vorrebbe averne un altro Quindi La sala del generator Posso tornar Allora Allora Là non avevo trovato Niente Qui non posso andare No Che è Devo tornare Sotto Tornare Non mi torna Che devo rifarmi Tutta quella strada Ehm Ehm Si prova Però è un po' troppo Cioè oddio Non è lunghissimo Come No No beh In effetti Indietro Non posso Tornare Come faccio Vediamo se posso Usarla Per Qualche affare Di qui Qui non c'era niente A cui serviva Qualcoso L'unico Che mi ricordo Era lì Alla Centrale Cioè oddio Un visão Un vision Un vision Un vision Almeno sono venuto a recuperare tutte le cose No niente Torno su Sto pezzo lo taglio a sto punto Perché è inutile Ok rieccoci qua Allora Stanza il generatore Quella sta qua tutta dritta Beh Oddio ora sono pieno di roba Ah ecco qua Non è che questo mi fa ritornare No Ah no No infatti Non ho posto per quello lì Non c'è ne Non sia aperta Devo tipo cercare di equilibrarli Ok 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 Allora se tengo spenti questi due No 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 Ok Accendo questo e questo No Accendo questo e questo No Beh Ok 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 Oh no lui serve la cosa No devo trovare Vabbè Vado un secondo a ficcare Il pezzo di là Eh non ci fa Ok non ci faccio un cazzo Ottimo Questa non la apro Che cosa diavolo Sono stato ci sono stato Ci sono stato No devo fare quello Per andare di là Per forza Quindi dovrei trovare Una combinazione anche lì Vabbè a sto punto Vado a depositare le cose Tanto manca poco Così mi vado a trovare La combinazione Così taglio tutto Il pezzo Inutile che io cerco La combinazione E vi faccio vedere Insomma Quella giusta E poi La cosa E poi insomma Il video dopo Vediamo che cosa ci sarà Dentro a quella Sdanza Oh Ok avete visto Tutti qua Io non ci ho fatto Niente Qui comunque Non ho trovato Nulla Vabbè Taglio tutto Vediamo che cosa Trovo In una macchina Allora Qui intanto Non l'abbiamo messo Ah Il gatto Dai Questa qua Si è aperta Yes Calcio Matilda Mamma mia Eh che cazzo Matilda Ti sei fatta Grossa Ora Ok Ragazzi Teoricamente Adesso Io devo Aprirle Allora Forse Ne devo Aprire Uno Questa Non me la fa Aprire Ancora Qui indietro Ok Porca Madosca Ma ancora vivo Ma porca Madosca Tutti Col picchetto Ammollato Nel viso Dove piaceva essere A terra Vaffanculo 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 C'era una porta Qua da qualche parte Dove mi serviva Proprio questa chiave Solo non mi ricordo Quale Io direi che Posso chiudere qui Questo video Poi mi ricerco Quale porta Serviva Quella chiave E niente Noi ci vediamo Nel prossimo video Di Resident Evil 2 Sono stanchissimo Ho registrato Tutto il giorno E quindi nulla Io spero che vi stia piacendo Veramente Lo spero perché La voglio Insomma Una serie che voglio Completare Sarebbe anche la prima Che io completo In vita mia Come video Perché comunque I giochi Se mi gioco Qualcosa In single player Me li finisco Più o meno Quindi niente Ci vediamo nel prossimo episodio Grazie mille per la visione Ciao ciao